E inauguriamo questa settimana uno spazio durante il quale parleremo di salute, benessere e medicina. Lo facciamo grazie alla presenza e alla competenza del dottor Paolo Cascavilla, medico di medicina generale. Buongiorno dottor Cascavilla, benvenuto. Allora oggi affronteremo un argomento molto importante che è l'antibiotico resistenza che è diventata potremmo dire un'emergenza globale. Allora ci spieghi qual è lo stato di salute attuale dell'antibiotico. Certo, lo stato di salute dell'antibiotico oggi è precario, è sofferente. L'antibiotico rappresenta uno strumento utilissimo, prezioso, che ha salvato milioni di vite umane e ha cambiato radicalmente il mondo della medicina, rendendo possibile il dominio di patologie che prima erano mortali o fortemente invalidanti. Oggi l'antibiotico sta perdendo efficacia, un po' come un albero che non dà più quella linfa vitale e non riesce più a dare i frutti che dava una volta. Oggi potrebbero essere a rischio diverse patologie, ad esempio la chirurgia maggiore oppure i trapianti o le terapie immunosoppressive per il rischio di contrarre infezioni poi non dominabili dagli antibiotici. La medicina è lanciata verso obiettivi incredibili, inimmaginabili. In questo caso non ci possiamo permettere di perdere questa battaglia, non possiamo fare un clamoroso passo indietro. Parliamo dunque dottor Cascavilla di infezioni che diventano resistenti, diciamo impermeabili all'antibiotico, quindi l'antibiotico non riesce più a curare queste infezioni che diventano più forti dell'antibiotico. Alla luce della sua esperienza, lei è stato medico di medicina generale, il medico di famiglia per intenderci, tanti e tanti anni. Quando le persone venivano in studio magari per una tosse, per un raffreddore, tante persone venivano da lei a chiederle la medicina, l'antibiotico, anche per una banale tosse, è così? Sì, sì. Allora bisogna dire che una delle cause dell'antibiotico resistenza è l'abuso degli antibiotici, abuso che non significa solo eccessivo, ma nell'etimologia del termine abuso, allontanarsi dall'uso, cioè farne un uso improprio. Bisogna capire che l'antibiotico funziona solo nelle infezioni batteriche, nelle ondate stagionali, autunno-invernali, di patologie, c'è una circolazione massiva di virus. Il rischio è di usare l'antibiotico proprio in queste ondate in maniera impropria. Il paziente deve capire che quella tossetta, anche persistente, stagionale, col tipico vellichio alla gola, di origine trachea, non passerà con l'antibiotico, così anche tante diverse patologie. Bisogna restringere assolutamente la prescrizione impropria. L'AIFA, l'Associazione Italiana del Farmaco, ritiene che ci sia un record in Italia di improprietà, di prescrizioni improprie. Bisogna arginare questo problema, tenendo presente che il farmaco è utilissimo e non dobbiamo banalizzarne l'uso, se vogliamo preservarne l'efficacia nel tempo. Non apriamo la parentesi dedicata all'uso che se ne fa in età pediatrica, perché qui ci vorrebbe un'altra puntata dedicata a questo, però purtroppo magari tanti genitori presi anche un po' dall'ansia, che vedono il proprio figlio con la tosse, con la febbre, cercano in qualche modo di utilizzare in maniera impropria l'antibiotico. Questo è un altro capitolo, quello dedicato ai bambini, che bisognerebbe aprire, però rivolgetevi sempre al pediatra per quanto riguarda i vostri figli. Allora, dottor Cascavilla, che cosa succede se io assumo in modo improprio un antibiotico? La dico in maniera banale, di testa mia. Ho una scatola di antibiotico a casa, ho un po' di tosse, comincio a prendere l'antibiotico, senza aver consultato il mio medico. Sì, innanzitutto si rischia di avere solo eventi avversi senza avere nessun vantaggio dal punto di vista della salute. Cosa succede? Che si verificano danni sia individuali che collettivi. Collettivi perché usando un antibiotico in modo improprio non è come usare qualsiasi altro farmaco. Le conseguenze dell'antibiotico resistenza cadono su tutta la comunità. A livello individuale si va a sconvolgere quell'equilibrio di miliardi di batteri che popolano il nostro intestino. Con quali conseguenze? Di creare una malattia nuova, ad esempio, pensiamo al sesso femminile, le infezioni del tratto urogenitale di natura micotica che sono poi di difficile soluzione anche perché tendono a recidivare. Pensiamo alla selezione di alcuni batteri che diventano sempre più frequenti. Il clostridium difficile sta avanzando e, come dice la parola, è difficile da trattare. Quindi, usando un antibiotico improprio rischiamo di farci solo del male. È chiaro che l'antibiotico va usato sempre consultando il medico nelle dosi, rispettando i tempi, quando è necessario. Il paziente non deve interrompere precocemente la terapia, non deve fare salti di terapia, altrimenti poi andiamo a favorire le resistenze batteri. Non è un aspirina, non è un antinfiammatorio. Mi fa male la testa, prendo l'aspirina, va bene una compressa. L'antibiotico, appunto, ha bisogno dei suoi tempi per diventare efficace. Dottor Cascavilla, che cosa possiamo fare per invertire questa tendenza? Ma soprattutto, qual è il ruolo del medico di medicina generale, del medico di famiglia? In questo caso occorre una mobilitazione generale. Educazione e informazione? Certo, ma tutti dobbiamo fare qualcosa. Anche i pazienti. Evitare l'autosomministrazione. Evitare, direi, di portare l'antibiotico nello zaino da vacanze, come se fosse una crema solare, quindi da usare al minimo disturbo, perché i pazienti sono molto focalizzati, hanno idealizzato l'antibiotico, pensano che sia la panacea di tutti i mali. Invece così non è. Dobbiamo insistere anche sugli effetti nocivi dell'uso dell'antibiotico preso laddove non era necessario. Cosa può fare il medico di medicina generale? Innanzitutto educazione, perché il medico di medicina generale è soprattutto educatore del farm. In questo caso deve essere il custode dell'antibiotico per non banalizzarne l'uso e quindi anche spendere pochi minuti per far capire al paziente queste cose va a tutto vantaggio della società e della medicina. Un'altra cosa molto importante, secondo il mio punto di vista, è incentivare i pazienti alle vaccinazioni, sia quelle di tipo virale, tipo influenza, ma sia anche quelle di tipo batterico, perché adesso disponiamo di vaccini efficaci anche contro bronchiti, polmoniti, basta una iniezione, abbiamo dei prodotti innovativi che possono coprire tutta la vita. Questo favorirebbe una riduzione degli antibiotici qualora contraggano una malattia batterica e nel caso delle malattie virali, è chiaro, ci evita la tentazione di usare l'antibiotico anche impropriamente in queste forme virali. A proposito di educazione e di informazione, non vorrei concludere con un dato che in qualche modo può destabilizzare i nostri telespettatori, però è bene ricordare questa informazione che c'è stata data, che purtroppo entro il 2050, dottor Cascavilla, che cosa rischiamo? Per antibiotico resistenza si prevedono 10 milioni di morti. Attualmente in Italia si verificano 11 mila decessi per uso, a causa dell'antibiotico resistenza, un valore numerico pari alla cittadina di San Marco in Lamis. Certo, a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo per chi ci segue da qui, però una cittadina media della nostra Italia. Dottor Cascavilla, grazie per essere stato con noi oggi. Ricordiamo ai nostri amici che è importante rivolgersi al medico di medicina generale, al medico di famiglia sempre e comunque per qualsiasi tipo di informazione. Siete lì apposta per educare e per informare. Noi ci ritroveremo la prossima settimana, ma vorrei ricordare anche ai nostri amici che poi prossimamente affronteremo anche un argomento molto molto importante che è quello del tabagismo, della lotta al fumo. Il dottor Cascavilla è in prima linea in quanto anche membro attivo del comitato tecnico scientifico della Simefac, società interdisciplinare di medicina di famiglia e comunità della quale è appunto responsabile dell'area tabagismo. Parleremo anche di questo. La ringrazio per essere stato con noi. Alla prossima settimana. Noi restituiamo la linea alla regia. Brevissima pausa e poi ancora insieme.